e allora erano le prime informazioni che avevo da un punto di vista dell'osteopatia, anche io avevo sentito parlare dell'osteopatia ma non sapevo assolutamente che cosa fosse e con Filippo ho cominciato il primo approccio e la prima volta che senti parlare del test e rotatori fu proprio da lui, di cui questo test che mi presentò sinceramente se devo pensarci a oggi pensò quasi inosservato, nel senso che non capia assolutamente niente di quello che stava dicendo, probabilmente l'ho accantonato lì, sapevo che c'era, come probabilmente hanno fatto tante persone e poi nel tempo, seguendo Filippo, perché poi da corsista siamo, io dico siamo perché sono stato io con altri miei colleghi, abbiamo continuato a seguire Filippo in vari corsi, sia a Reggio Emilia che a Roma, ho cominciato a sentirne parlare sempre di più, ho provato, mi sono approcciato e da lì ho cominciato veramente a entusiasmarmi a questo test, vai poi avanti. Questa è stata però la data in cui si è veramente io dico rilevato e rivelato questo test e fu nel 2008 in cui a questo congresso nazionale di medicina osteopatica che venne tenuto a Roma presso l'hotel Villa Eur Parco dei Pini, in cui c'era Filippo che faceva la sua relazione, ma tra i vari ospiti di eccellenza venne anche Bernardo Tè che potete vedere nell'immagine. Non solo, se vedete io ho riportato quello che ho ritrovato a livello del web delle varie locandine di questo convegno, tra i vari ospiti di eccellenza che potete vedere c'era anche una certa Viola Freiman, quindi fu un convegno in cui Bernard venne e abbiamo avuto la possibilità di fare con lui un'intervista, un'intervista in cui lui ci spiegò, ci spiegò per filo e per segno questo test, come è nato e a quel punto nel momento che Bernard parlava ho capito tante cose, ho capito tanto di quello che Filippo nei vari corsi che avevo seguito con lui mi aveva detto, ma che ancora chiaramente non avevo compreso. Chiaro, quando senti parlare del test dal suo creatore probabilmente è tutto molto diverso, è molto più preciso e sicuramente molto più puntuale. E questa è la data in cui sono cambiate tantissime cose anche nell'approccio mio verso il test. Andiamo avanti Lu? Queste due persone che sono Filippo e Bernard, pur parlando di posturologia, mi hanno insegnato anche che in posturologia, come ho riportato la frase di Bernard, non è interessante solo fare i test, è quello che diciamo molto spesso quando facciamo i corsi con Filippo sulla parte della posturologia, della metodologia top, è che non è solo importante il test e chiaramente come lo si esegue, ma è poi l'informazione che il test ti dà e come poterla metterla in relazione con i vari sistemi. Perché la cosa più importante è, ma di questo test è l'informazione che mi dà, ma cosa mi serve il risultato e come lo posso integrare e qual è l'informazione che io devo tenere per capire questo sistema. Beh, io ho trovato in tutti e due lo stesso tipo di linguaggio e questo mi ha facilitato molto perché quello che vedete in sovraimpressione che sono la copia del libro top e la copia della tesi di Bernard, sia in francese che in italiano, in cui ho trovato esattamente lo stesso tipo di linguaggio. E questo per me è stata una grande rivelazione, perché finalmente sentivo due persone parlare la stessa identica lingua. Andiamo avanti Lu? Questa potete vedere, ho fatto una scannerizzazione della prima pagina, in cui in questa prima pagina potete vedere che viene detto Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, la facoltà di chirurgia master di secondo livello di gnatologia posturale e il titolo era il test dei lottatori in postulologia 2002-2003. Bene, quello che vi porterò da ora in poi sono tutte piccoli estrapolati e frasi che sono all'interno della tesi e all'interno di quell'intervista che poi noi abbiamo messo nero su bianco e tenuto come prova ufficiale dell'avvenimento, perché credo che sia stata abbastanza unica nel suo genere, perché credo che Bernard, per quel poco che io l'ho conosciuto, sia molto schivo a interviste, a rilasciare dichiarazioni varie, quindi io ho preso quell'intervista come veramente abbastanza oro colato. Andiamo avanti Lu? Nell'ultima pagine della tesi io ho riportato anche tutto quello che lui riporta come bibliografia e come pubblicazioni in modo tale che qui avete tutto su cui si basa la tesi, in modo di farvi capire che questo test non è basato sull'inventato, ma è basato su delle ricerche reali che ci sono. Andiamo avanti. Ok, il titolo dice affidabilità, efficacia e soggettività e la tesi parte con questa introduzione in cui Bernard dice nel 1984 ho messo in pratica tale approccio in un test, il test dei rotatori. Gli ultimi anni degli studi riguardano l'affidabilità del test. Alcuni lavori hanno messo in evidenza l'apprendimento di manualità necessarie per praticare il test. Altri hanno confermato la sua efficacia e soggettività. E qui già introduciamo alcuni argomenti che secondo me sono importanti. Il primo è quello dell'affidabilità del test. Insomma, dobbiamo sapere che questo è un test dichiarato attendibile. L'attendibile vuol dire che le risposte che ci dà sono attendibili e quindi lo possiamo usare come test attendibile. Le altre informazioni che ci dà questa frase dice che molto tempo è stato portato via perché ci si è accorti che la manualità dell'operatore è importante per far sì che il test ti dia un corretto messaggio di risposta. E riporto quello che Bernal ci disse che quando era il direttore del suo collegio di osteopatia di Tolosa lui aveva inserito la pratica del test già nei primi anni degli allievi della sua scuola. E vedeva che nei primi anni la risposta del test non era attendibile perché dava comunque delle informazioni che non erano comunque corrette. Questo ci ha fatto capire che la manualità dell'operatore è fondamentale. Conoscere il test e approcciarsi al test è fondamentale perché da lì viene fuori l'altro concetto che è quello della sua efficacia ma anche della soggettività. Beh, la soggettività è un argomento importante perché credo che tutti i test, dal test dei rotatori ma anche degli altri test neuroposturali o qualsiasi test che venga eseguito abbia una componente di soggettività, si dice operatore dipendente. Beh, per cercare di far sì che il test sia più attendibile possibile dobbiamo cercare di essere molto attenti quando si esegue un test di cercare di togliere tutte quelle variabili o interferenze che possano, come abbiamo sempre detto, inficiare nel test o darci dei dati non attendibili o dei falsi positivi. Ancora di più in questo test richiede una grandissima manualità ma io aggiungerei una grandissima sensibilità e già da qui lui ce lo scrive, ce lo scrive in questa introduzione nella tesi che se non sappiamo bene dove andare a leggere magari queste piccole evidenze ci scappano. Ecco perché il titolo è affidabilità, efficacia ma anche una soggettività. Andiamo avanti, Lu? Ok. Bernard, in quello che ci ha detto, lui stava già lavorando da tempo sul sistema delle catene muscolari che noi ormai chiamiamo catene ostio-miofasciali. Lui aveva cominciato l'approccio sulle catene muscolari sulle catene tonico-posturali collaborando con il professor Costantinescu che era un ricercatore rumeno. E anche lui, Bernardo Tè, diceva che queste catene ostio-miofasciali le potevamo dividere in grandi gruppi in cui c'erano le catene del sistema retto e quindi le catene statiche che hanno una funzione prettamente più nella statica e un sistema che si organizzava invece più dinamico che era il sistema crociato delle catene crociate. Quindi erano più atte a quello che era il movimento del corpo mentre le altre erano più atte ad una statica del corpo. Bernardo ci dice quando siamo in appoggio bipodalico stiamo rilevando e possiamo osservare quello che è la statica mentre quando siamo in un appoggio monopodalico siamo in quello che noi chiamiamo la dinamica. Lo schema dinamico, come dice Bernardo è uno schema in cui le informazioni entrano dal piede e quindi dal piede vanno fino alla zona femoro-iliaca quindi arriveranno fino alla zona dell'ossi iliaco mentre lo schema statico è quello che invece va dalla testa fino all'osso sacro. Andiamo avanti, Lu? Ma non dimentichiamo che Bernardo essendo oltre che osteopata un grande ricercatore e un grande clinico lui aveva cominciato già da tempo a fare un grande lavoro sulle sciatiche. Cosa voglio dire sulle sciatiche? perché aveva osservato che le sciatiche di destra e di sinistra quindi che impegnavano lo sciatico di destra e di sinistra non avevano lo stesso decorso da un punto di vista del trattamento. O meglio, se leggiamo a leggere quello che ho riportato qui Bernard ci dice ho continuato a lavorare sulle catene rette e crociate ma proprio in quel periodo ero molto interessato alla cura delle sciatiche stavo notando che le sciatiche destre erano facilmente trattabili naturalmente in assenza di problemi di scala importanti mentre le sciatiche di sinistra avevano un difficile decorso post trattamento articolare cioè vuol dire che nel momento che una sciatica di sinistra veniva trattata con un trattamento da un punto di vista strutturale molto spesso, se non sempre, non aveva lo stesso decorso di guarigione a livello di dolore nel soggetto ma molto spesso addirittura o si allungava o la ricrudescenza del dolore tendeva ad aumentare e questo è un dato molto importante perché già ci fa capire che il sistema probabilmente lavora su due informazioni diverse ma dobbiamo anche capire il perché queste sciatiche sono diverse e devono essere interpretate in maniera diversa sia nel trattamento ma e poi anche nella interpretazione del test andiamo avanti e Bernara ancora aggiunge che un po' di dimostrazione scientifica necessitava per queste ricerche che stava cominciando a fare e quindi lui ci riporta dicendo che un po' di dimostrazione scientifica ce n'era bisogno e ho avuto la possibilità lui di fare degli studi all'ospedale Timonte di Marsiglia con il professor Maurice Joaquin del CNR Joaquin è colui che ha inventato quelle che sono le pedane, le sabote per la postulologia con il quale abbiamo applicato e qui è importante sul piramidale o piriforme e valutato come l'intrarotazione l'intrarotazione di un arto superiore o l'extrarotazione dell'altro arto provoca una inibizione del piriforme quindi abbiamo avuto la conferma che stavamo interrogando le catene ascendenti o discendenti e questo è perché lui doveva cercare anche una maniera per poter riprodurre questo schema ascendente e discendente in una maniera più facilitata perché diceva molto spesso quando mi arriva un paziente doloroso è difficile eseguire un test di TFE o TFS quindi test di flessione in stazione retta o da seduto per disquisire se è più di origine ascendente o discendente quindi non potendo fare il test dovrevo cercare di riprodurre lo stesso schema per interrogare le catene in un'altra maniera e guarda caso con questo lavoro con Joaquin vide appunto che la possibilità di mettere il braccio in intra o in extrarotazione portava anche a un'inibizione di quello che era il muscolo piriforme ma allora è perché proprio questo muscolo piriforme andiamo avanti? e qui l'altro capitolo della sua tesi che è legato direttamente al muscolo piriforme o piramidale e il Bernard ancora continua esiste un muscolo che per le sue inserzioni sul femore e sul sacro serve da relais dei due sistemi si tratta appunto del piramidale il test dei rotatori come potete vedere ci sono ancora le correzioni che venne fatta la tesi il test dei rotatori indica le restrizioni delle barriere motrici dei muscoli rotatori esterni delle anche di cui fa parte il piramidale per evidenziare le disfunzioni informazionali ascendenti discendenti statiche e dinamiche quindi viene preso come riferimento il muscolo piriforme perché è il muscolo relais quindi di comunicazione di quelli che sono i due sistemi discendenti e ascendenti perché allacciando quello che è mettendo in relazione l'osso sacro con la sua faccia interna e arrivando nel grande troccantere dell'osso femorale andava ad unire quello che erano il sistema discendente che parte dalla testa abbiamo detto arriva fino all'osso sacro e quello che era il sistema ascendente crociato dinamico che entrava dal piede e arrivava fino all'osso iliaco ecco il perché appunto va a interrogare questo muscolo di riferimento andiamo avanti qui Bernard estratto dagli atti del terzo congresso mondiale di posturologia di Roma ci dice altre informazioni e ci dice bene ma questo test che cosa ci dà che cosa ci dice questo test nel momento che lo andiamo ad eseguire e lui ci dice le domande che ogni terapeuta si pone di fronte ad un paziente sono quattro o dovrebbero essere quattro il motivo del consulto del paziente se è di competenza del terapeuta quindi la prima cosa che dobbiamo chiederci è ma questo paziente è di mia competenza e questo il test allodatori ce lo potrebbe dire e ce lo dice il test ci può orientare e sapere dove è l'inizio del trattamento che cosa vuole dire che il test dei rotatori ci dà quella che è l'informazione di una priorità terapeutica e in questa priorità terapeutica è importante è importante perché nel momento che il test ci dà le sue risposte non possiamo andare noi dove vogliamo ma dobbiamo aspettare e eseguire quello che è la sua procedura io dico sempre dell'apertura dei cancelli graduali in base a quello che lui ci sta dicendo quindi non possiamo né accelerare né avanzare se non seguire quello che in quel momento ci dice come la priorità terapeutica da correggere in quel soggetto in quel momento su quella persona e in più ancora ci dice bene il test ma l'osteopata deve anche sapere come svolgere ancora la seduta come poter andare avanti nella seduta abbiamo detto che il test rotatori ci dà una sequenza logica di come proseguire e come e dove poter andare a lavorare ma anche quando interrompere il trattamento quindi il test alla fine ci potrà dire quando siamo arrivati a portare il soggetto in quel momento in quella situazione in quel giorno in un equilibrio chiamiamolo con questa parola la volta successiva se dovessimo trovare e ritrovare e rivedere questo paziente non è assolutamente detto che il test riparta dalle stesse risposte che ci aveva dato la volta precedente ma potrebbe essere cambiato completamente tutto e quindi ripartiremo da quella priorità terapeutica che in quel momento il test ci dirà continueremo la seduta con quella sequenza che il test continuerà a dirci ma anche lì capire e vedere quando il test ci dirà di concludere di nuovo la seduta e questo diventa importante perché diventa importante perché non siamo più noi a decidere cosa è meglio fare non è meglio fare ma l'indicazione che il test ci dà ci potrebbe far capire molto bene che cosa è meglio fare in quel momento per quella persona e credo che sia una cosa molto importante quindi di non entrare in un protocollo sistematico di lavoro ma lavorare più su una sistemica e rispettare molto di più di quello che il corpo del soggetto e del paziente in quel momento ci dice il test dei rotatori fornisce informazioni sulla direzione prioritaria come ci dice lui degli interventi terapeutici nell'ambito di patologie funzionali beh qui ne parleremo dopo che cosa intende lui per patologie funzionali così vedremo il perché ve lo spiegherò più tardi e qui entriamo nel test andiamo avanti Lu ho messo le immagini di Filippo che esegue il test e Bernardo te ci dici il paziente è rilasciato quindi sul lettino in posizione supina il terapeuta afferra leggermente i malleoli in quel leggermente vuol dire che il terapeuta non stringe le caviglie del soggetto e ha un tocco molto dolce perché il stringere con le mani sulle caviglie del soggetto potrebbe già essere un'informazione sul sistema quindi la delicatezza dell'impugnare i malleoli è già una di quelle caratteristiche del test che molto spesso si sbaglia molto spesso lo fanno chi si approccia per la prima volta al test con una manualità ancora abbastanza pesante e già quello vi garantisco che è già un'informazione che viene data al sistema e già qui stiamo falsando completamente quello che sarà la risposta quindi in quel afferrare i malleoli con leggerezza è una delle prime caratteristiche proprio dell'approccio del test e induce lentamente una rotazione interna di un'anca e poi dell'altra conservando le tensioni acquisite per testare le barriere motrici dei muscoli rotatori esterni dell'anca di cui il piramidale fa parte è importante che il test venga eseguito portando in intra rotazione prima un arto e poi l'altro molto spesso le domande che mi vengono fare ma è la stessa cosa poter ruotare tutti e due gli arti contemporaneamente e io vi dico no non è la stessa cosa sì a volte dà la stessa risposta ma non è la stessa cosa come aggiunta che vi posso dare del perché ruotando un arto alla volta è migliore che non ruotarlo con tutti e due è perché si ha molta più sensibilità e si ha molta più concentrazione perché noi dobbiamo andare a sentire quello che è la prima barriera motrice della tensione del muscolo piriforme dovendo dare l'attenzione su tutti e due gli arti contemporaneamente si perde quella finezza di ascolto di questa barriera motrice quindi il fatto di poter intrarotare prima un arto e poi l'altro è fondamentale per essere ancora più precisi per incontrare quella prima barriera motrice che non è così facile da sentire la leggerezza dell'appoggio delle mani porterà ad avere un miglior ascolto in questa rotazione e la rotazione di un arto e l'altro porterà ancora di più ad essere focalizzati prima nell'ascolto di una barriera motrice e nell'altra barriera motrice vi ho messo nella prima figura il riferimento del piede destro e il piede sinistro che sono riferiti alla gamba del soggetto vista dai piedi da sotto la pianta del piede ok quindi è come se noi fossimo gli operatori che stanno guardando la pianta del piede del soggetto andiamo avanti nel momento che eseguo questa rotazione interna io posso avere tre casi o meglio posso incontrare tre situazioni la prima situazione che posso incontrare è che ho una restrizione dei rotatori esterni dell'anca destra che cosa vuol dire restrizione dei rotatori esterni dell'anca destra vuol dire che la gamba destra del soggetto rispetto a quella sinistra avrà una intra rotazione minore questa intra rotazione verrà data per noi come osservazione dai piedi del soggetto perché noi non possiamo guardare e sentire direttamente la tensione del piriforme verrà data dalla posizione che i piedi assumeranno nel momento che io vado a ruotare internamente gli arti superiori e la restrizione vuol dire che la gamba destra in questo momento il piede destro del soggetto intra ruoterà in maniera minore rispetto al piede sinistro in questo caso si notano le restrizioni delle barriere motrici dei rotatori esterni e questo esempio come dice Bernard corrisponde a circa il 70% dei pazienti ora vi dico una cosa personale e non so se Filippo su questo mi potrà dare ragione quando facemmo l'intervista il 2008 e vi dico che probabilmente era così io credo che questa percentuale al giorno d'oggi si sia spostata non sia più un 70% probabilmente perché i ritmi di vita probabilmente perché troviamo pazienti in situazioni di ortis simpaticotonia di tensioni varie credo che ad oggi non sia più un 70% della restrizione della gamba destra ma sia diminuita molto a discapito della rotazione della gamba sinistra che adesso vi spiegherò il perché e a che cosa corrisponde la gamba sinistra quindi questa percentuale ad oggi credo che sia un po' cambiata andiamo avanti Lu nel momento che abbiamo trovato una restrizione di rotazione interna della gamba destra il sistema ci dice che se siamo in questa situazione siamo su un sistema prettamente posturale di struttura e quindi la fase successiva sarà quella di andare a capire e trovare se questa problematica che va a disturbare il sistema posturale sia di natura ascendente o discendente cosa intendiamo con natura ascendente o discendente intendiamo che tutto quello se è discendente è in alto potrebbe perturbare tutto quello che si trova al di sotto di questa informazione scorretta e così per quanto riguarda l'informazione ascendente quindi vuol dire che se troviamo un piede come in questo momento una priorità terapeutica di informazione errata sul sistema posturale il piede porterà a creare un'alterazione e un'adattamento dei sistemi su tutto quello che si trova al di sopra del piede ok quindi se noi vogliamo riprodurre con l'intrarotazione o extrarotazione delle braccia il sistema delle catene statiche e dinamiche come vedete dalla figura mantenendo la rotazione dei piedi nella posizione di intrarotazione chiederemo al soggetto di mettere inizialmente in intrarotazione il braccio destro quindi il braccio destro si posizionerà sulla spalla sinistra in questo momento in questa posizione stiamo interrogando il sistema discendente o statico da lì dovremo capire se quella è l'informazione corretta dove partirà il problema e quindi potrebbe essere l'occhio potrebbe essere partendo dall'occhio vedete la figura di Philippe che fa fare un test sull'occhio per l'oculomotricità per vedere se in effetti potrebbe essere l'occhio in questo momento l'interferenza ma potremmo scendere testando quello che è la bocca le cervicali le dorsali e via 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 a scendere fino arrivare dove possiamo ad arrivare cosa dire su questa intrarotazione la cosa che posso dire è che sia importante che nel momento che la persona appogge il braccio in intrarotazione che il soggetto vada a ricreare il movimento di rotazione degli atti inferiori e il fatto che ci possa dire che il sistema discendente possa essere in questo momento inficiato è perché le gambe o i piedi del soggetto andranno a unificare o pareggiare la loro intrarotazione quindi non ci sarà più una differenza di rotazione interna ma guardando i nostri piedi vedremo che avrà una rotazione identica sia del piede destro che del piede sinistro quando abbiamo il pareggiamento della rotazione allora vuol dire che abbiamo trovato l'informazione in quel momento prioritaria finché si presenterà a livello dei piedi una differenza della rotazione dovremo andare avanti per cercare dov'è l'informazione disturbatrice quindi il pareggiamento dei piedi è l'indice per noi di informazione che abbiamo trovato il disturbo del sistema in caso che noi volessimo interrogare il sistema ascendente dovremmo far mettere l'arto controlaterale quindi il sinistro in una posizione di extra rotazione vedete che il soggetto nella figura pone il braccio aperto e sotto la testa io vi aggiungerò che probabilmente sarebbe anche meglio non appoggiarlo nella parte posteriore della testa ma lasciarlo solamente in uno stato di extra rotazione e questa posizione del braccio interrogerà le catene ascendenti quindi l'informazione ascendente e se rieseguendo il test e troverò un pareggiamento dei piedi allora dovrò andare a cercare chi è che in questo momento mi porta il sistema in perturbazione e quindi partirò ad interrogare i piedi per poi salire che possa essere la sottastragalica possa essere il malleolo peroneale possa essere il ginocchio la rotula l'anca eccetera eccetera quindi dopo dovrò andare a trovare quale sarà il dove sarà la problematica interferente andiamo avanti Lu questo è nel caso che noi abbiamo trovato una restrizione della gamba destra abbiamo detto allora erano il 70% dei casi ci trovavamo su un sistema posturale strutturale dovevamo capire se trovare una problematica di tipo ascendente e discendente e da quel punto continuavo risolvendo il problema se potevo e continuavo con il test ma nel caso ed è il secondo caso posso anche trovare una restrizione della gamba a sinistra a sinistra Bernal chiama restrizioni dei rotatori esterni dell'anca sinistra quindi l'opposto rispetto a quello che abbiamo trovato prima e Bernal ci dice l'esperienza clinica ci dimostra che le argomentazioni che riguardano le restrizioni della rotazione interna a sinistra non possono venire considerate nello stesso modo in effetti le sciatiche di sinistra rispondono solo raramente allo stesso trattamento di quello di destra come avevamo detto prima andiamo avanti e dice l'arte inferiore sinistro presenta alterazioni circolatorie più frequenti di quello destro la disposizione anatomica del tessuto molle è responsabile delle tensioni esercitate a livello dei muscoli rotatori esterni dell'anca sinistra all'origine di questo fenomeno troviamo il movimento embriologico di rotazione verso sinistra dietro la cavità dell'epiplom questa limitazione di rotazione interna può quindi indicare disfunzioni di origine viscerale o circolatoria poiché i visceri sono la sede dei fattori emozionali questa limitazione può darci informazione sullo stato psicologico del paziente quando noi incontriamo una restrizione di rotazione interna dell'arto sinistro siamo su un sistema completamente diverso di quello destro e qui la differenza che faremo se siamo più su un sistema chiamiamolo somato emotivo o su un sistema prettamente viscerale Bernardo ancora ci dice l'emozione attenua la sensazione dell'immagine corporea e ne diminuisce la sensibilità poiché agisce con una tecnica di modellamento corporeo pressioni forti sui contorni del corpo si rileva una diminuzione del tono dei rotatori esterni a sinistra ed un aumento del tono dei rotatori esterni a destra che cosa vuol dire e leggo l'ultimo pensiero che c'è scritto sotto Bernard discusta e parlò con la sua compagna che è mancata poco dopo e che era una psicoterapeuta e Marie gli disse che i pazienti che avevano problemi di tipo psichico e noi lo facciamo entrare quelle che sono abbiamo detto le problematiche somato emotive non riescono a percepire le informazioni esterocettive cioè perdono completamente quelle che sono le capacità di poter ricevere informazioni dall'esterno quindi quelle che sono gli abbracci quelle che sono le carezze quelle che sono le stimolazioni che entrano dalla pelle è per quello che nel momento che noi vogliamo inibire quello che è il sistema somato emozionale e quindi cercare dando il messaggio al test se la problematica parte dal sistema somato emotivo si crea e si esegue quello che viene chiamato il modellage il modellage che è quella passaggio delle mani sul corpo del soggetto partendo dalla testa e uscendo dai piedi per cercare di vedere se questa manovra chiaramente reinterrogando i piedi e vedere se porto al pareggiamento della rotazione mi dice sì quella è l'informazione corretta e quindi mi darà il pareggiamento e a quel punto puoi sapere che cosa devo fare in caso che il modellage andiamo pure avanti non mi dia un pareggiamento dell'intra rotazione allora potrò andare ad interrogare e stimolare direttamente gli organi da un punto di vista viscerale oppure usando quelli che sono i punti della dermatologia per appunto vedere se questo mi possa portare al pareggiamento della rotazione interna l'origine viscerale Bernard l'ha data proprio come è scritto prima da questa derivazione di tipo embriologico di questa derivazione di più viscerale e circolatoria prima di tutto viene utilizzato il modellage per escludere per escludere che ci siano problematiche di tipo somato emotivo in caso che il modellage non ci dia un pareggiamento allora cominceremo ad andare a interrogare i vari sistemi viscerali con il tocco diretto a livello dell'organo viscerale questo per creare un'inibizione e vedere se in effetto è la rotazione interna degli arti e abbiamo il famoso pareggiamento dei piedi andiamo avanti abbiamo fatto i primi due casi rotazione dell'anca destra limitata del piriforme destro o secondo caso la rotazione limitata interna del piriforme di sinistra ma abbiamo anche il terzo caso il terzo caso che il sistema ci dà delle informazioni come chiama Bernard aberranti cioè il test non si equilibra in nessun caso o meglio già probabilmente alla partenza del test abbiamo le informazioni aberranti probabilmente non ci fa neanche andare avanti le informazioni che il test ci dà in quel momento non sono attendibili come facciamo a capirlo ogni volta che cominciamo il test noi andiamo a eseguire per tre volte di seguito la rotazione interna degli arti inferiori perché perché su tre volte e chiaramente se in quel momento il soggetto è testabile il test è attendibile ci dovrà dare sempre lo stesso tipo di differenza di rotazione quindi io vado prima a interrotare prima l'arto sinistro e poi quello destro poi lo eseguerò una seconda volta lo eseguerò una terza volta e tutte e tre le volte mi dovrà dire che c'è una restrizione o a sinistra o a destra ma non potrà essere che una volta mi dia a destra una volta mi dia a sinistra poi un'altra volta mi dia ancora a destra beh in questo caso in caso che trovassi ogni volta che esegui il test chiaramente è iniziale ok quando inizio il test vuol dire che probabilmente è una risposta aberrante sono su un altro livello e questo livello è quello che Filippe come Bernardo Te ci ha sempre spiegato come la cosiddetta sindrome disarmonica e Bernardo ci dice se il test dei rotatori non si equilibria mai il corpo del paziente mi sta dicendo che si trova fuori sistema Filippe ci ha sempre detto che è come una locomotiva fuori dai binari non possiamo continuare nel test o non possiamo continuare in un trattamento osteopatico se prima non abbiamo rimesso la locomotiva sui binari se prima non abbiamo portato fuori questa persona da questo stato di disarmonia questo è l'unico credo possibilità in cui il test dei rotatori non serve assolutamente niente anzi io direi serve perché serve a dirci che siamo fuori dal sistema siamo in un sistema particolare che è quello della sindrome disarmonia che è molto importante conoscerla che è importante perché se siamo in questa situazione nessun tipo di test sarà attendibile e quindi tutte le informazioni che potremmo ricevere da qualsiasi test saranno assolutamente alterate e non attendibili quindi è importante riconoscerla saperla riscontrare ci sono dei test dedicati per la sindrome disarmonia quindi per certificare che siamo in sindrome disarmonica e questa diventa la priorità del trattamento ancora prima di qualsiasi altro tipo di trattamento da effettuare Bernardo ancora ci aggiunge che il corpo fornisce informazioni aberranti il più delle volte si riscontrano delle sindrome disarmoniche come un asincronismo cranioscacrale che per prima cosa dovrebbe essere corretto con un trattamento funzionale prima cosa è prima di tutto quindi anche lui ci diceva diventa la priorità del trattamento in quel momento andiamo avanti i test di cui non parleremo qui ma potremmo parlare in un altro momento sono cinque uno di questi è quella l'osservazione che possiamo avere del soggetto in stazione retta e come potete vedere da queste figure l'ultimo è quello che il numero cinque si trova in uno stato di disarmonia quindi ad occhio nudo potremmo trovare o dietro un filapiombo il soggetto che si trova tutto sbilanciato da una parte o a destra o a sinistro nel momento che abbiamo una sindrome disarmonia si crea una ipertonia omolaterale e molto probabilmente il soggetto si troverà lateralizzato tutto dalla stessa parte per via di questa ipertonia e quindi all'occhio nudo alla visualizzazione ad occhio nudo lo troveremo rispetto a un filapiombo completamente pendente da una parte come così come la torre di Pisa andiamo avanti già Bernard nella tesi aveva detto che potevamo avere un assincronismo craniosacrale quando troviamo questa sindrome disarmonia e vediamo che anche Philippe ce lo conferma che l'assincronismo craniosacrale in quel momento è la causa che mette il sistema in questa disarmonia e l'assincronismo craniosacrale potrebbe anche essere avvenuto per altri motivi che potrebbe essere una disfunzione vertebrale non fisiologica che si è creata nel tempo potrebbe essere creata da delle patologie centrali potrebbe essere creato anche da traumi emotivi ricorrenti nel tempo e per molto tempo non è detto che per forza la sindrome disarmonia sia conclamata da un trauma solo ma potrebbero che potrebbe essere ma potrebbe anche avvenire per stimolazioni continue traumatiche lievi ma protratte molto nel tempo ok ma sicuramente quello che abbiamo e troviamo è proprio un asincronismo del sistema craniosacrale andiamo avanti e qui è una domanda importante da farsi che è quello del fidarsi del o dei test o affidarsi al o ai test beh io qui ci ho pensato tanto anni indietro quando mi era approcciato il test e l'ho pagato sulla mia pelle anche perché ho visto che non basta solo fidarsi del test io mi sono affidato totalmente a quello che il test dei rotatori mi dice perché ogni volta che non ho seguito quello che lui indicava ho sempre avuto un peggioramento o non corretto svolgersi di quello che era il giusto protocollo terapeutico del paziente vuol dire che quando il test dei rotatori mi diceva ok per oggi stop così questa persona in equilibrio non bisogna toccarla più e io magari alle prime armi mi sentivo un po' in difetto perché dicevo cavolo ma la seduta è durata solamente mezz'ora adesso come faccio a giustificare altra mezz'ora di trattamento per farmi pagare la stessa cifra magari aggiungevo altre tecniche perché io pensavo che potessero essere giuste beh tutte le volte avevo il paziente che o mi chiamava o ritornava e mi diceva che se non stava peggio non era cambiato assolutamente niente e ho cominciato ad affidarmi completamente quando lui mi diceva ok non c'è più niente da fare e trovavo un pareggiamento dei piedi mi diceva bene il corpo in equilibrio di fermarmi del trattamento e non andare avanti questo a prescindere che il trattamento potesse durare 20 minuti 40 mezz'ora o quello che era perché ho riscontrato che è proprio esattamente così e quindi qui possiamo capire che c'è un dialogo con il test non è solamente un eseguire un test ma il fatto che ci dica molto di più vi garantisco che l'eseguire il test dei rotatori porterà e vi porta ad avere una sensibilità nell'ascolto dei tessuti completamente diverso sul sistema del paziente Bernard ci dice che allorché equilibrato il test dei rotatori il terapeuta deve smettere il suo intervento nella seduta in corso quindi ve lo garantisco provato di persona e sposo pienamente questa frase di Bernard e quindi sul fidarsi del test o affidarsi il test io scelgo affidarsi al test per esperienza proprio personale andiamo avanti Bernard ci dice ancora e questo è interessante e qui ritorniamo a quella prima slide che avevo messo che io vengo dalla kinesiologia applicata e ci dice il test dei rotatori può anche aiutarci nell'equilibrare bite o clusali nell'elaborare dei plantari proprio eccettivi nel prescrivere lenti prismatiche e nell'ottica anche di un trattamento omeopatico il test può aiutarci a rispondere alle domande che si pongono le diverse professioni che si occupano della sedute circondate da patologie legate alla postura e disturbi della funzione di un'ottima di un'ottima